Arriva la grande palla a nuoto nelle piscine del Cusunime che domani vivranno un'intensa giornata di sport. Sarà un sabato pomeriggio all'insegna di grandi emozioni, quello che appunto domani alla cittadella universitaria vedrà la luce. A tuffarsi per primi in vasca saranno proprio i ragazzi del Cusunime che alle 13 incroceranno i sette scogli per la terza giornata di ritorno di campionato formalmente da ospiti della società siracusana. Un match di serie B di alto profilo che fa da prologo alla sfida di serie A tra due squadre di alto calibro. Da una parte l'ortigia siracusa, dall'altra la capolista pro recco, vera e propria corazzata del torneo che oggi arriverà in città per prepararsi all'evento. I siracusani invece sono approdati in rivallo stretto già da diversi giorni prendendo confidenza con le strutture della cittadella e testando l'acqua già ieri nel tardo pomeriggio in un'amichevole contro il Cusunime terminata 10 a 5 in proprio favore. Cresce anche e soprattutto grazie a giornata come quella di domani il movimento pallanotistico messinese con serie B e serie A ad alternarsi di fronte agli occhi dei tanti appassionati che correranno all'evento con ingresso gratuito. Il Cus, in vetta con 9 vittorie e 9 gare disputate, non vuole fermarsi e trascinare un'intera città verso i piani alti di un intero sport.